Sì, come state? Spero tutto bene, aspettate che sta, vediamo un attimo se parte la live, perché si vede tutto nero? Oh, voi mi vedete ragazzi? Mi vedete, mi sentite? Oh, oh, ah eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti, chat live, chat live, ok? Aspettate che informo un po' Instagram, ok? Perfetto, perfetto, perfetto. Questa è anche in realtà una piccola prova, perché sì, ve lo annuncio qui, anche se ora appunto non c'è nessuno, perché probabilmente domenica, nella solita live con il mio amico Marco, probabilmente la faremo qui su YouTube, se la connessione ce lo permette, se la connessione ce lo permette. Vediamo un po', live YouTube, perfetto, a posto, bene, bene, buonasera a tutti, buonasera a tutti, vediamo se c'è qualcuno o non c'è nessuno, mettiamo una bella canzoncina, tipo, tipo questa, mi piace, mi piace questa canzoncina, così chill, così, così, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, ok? Allora, buonasera, 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 innanzitutto volevo chiedervi, innanzitutto, se eravate live, se c'era qualcuno, ovviamente non ho avvisato per questa diretta. Adesso è mezzanotte meno un quarto, ok? E quindi, ovviamente, non verrà nessuno, ma a me non ci interessa, le cose che dovevo, le cose che devo fare sono due, in questa diretta. Uno è, un po' così, divertirmi, perché volevo fare una diretta, quindi ci sta. La seconda è, provare a vedere, appunto, se questa live va, mantiene la connessione, possiamo fare diverse cose, possiamo interagire, probabilmente, ehm, 6800, ok, probabilmente non riuscirò ad usarne il mentre flagrantica o cose del genere, perché, perché no, perché no? Vediamo se la chat va, proviamo a vedere, ok, 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 ok. Ok, 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 buonasera ragazzi, innanzitutto volevo sapere, per chi c'è, che profumi indossate quest'oggi? Io sto provando diversi profumi in questi giorni, tornato da Xans, appunto per farci dei video. Come vedete, oh, ciao Lorenzo, ciao Adriano, buonasera caro, benvenuto, benvenuto. Mi si sente, mi si vede, Adriano, vero? È corretto? Mi si sente e mi si vede, giusto? In teoria sì, in teoria mi si sente e mi si vede. Come stai Adriano? Tutto bene, tutto bene? Vediamo se si vede bene. Sì, dovrebbe vedersi bene. Oggi retto bacco, ok. Ok, allora posso dire che a me piace di più, però, fare una cosa, scusatemi un attimo, eh. Retto bacco. Te sei un appassionato, Adriano? Da tanto tempo? Ok, così. Meglio? Meglio o peggio? Boh. Sì, corretto. Ok, 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 perfetto. E no, volevo chiederti, da quanto tempo sei appassionato? E per, insomma, capire un po' la collezione che hai, un po' la... La... Si vede benissimo e si sente molto bene, perfetto. Ok, così si vede meglio, perfetto. Bene, 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 bene. Perché adesso ti spiego, Adriano. Oggi, come ho già detto prima, probabilmente non ci sarà nessuno, perché non so se mi segui su Instagram. Non ho avvisato che c'era questa live, non ho, ehm... È mezzanotte meno un quarto, anzi meno dieci, quindi probabilmente non entrerà nessuno. Però la volevo fare perché, primo, avevo voglia di fare una live in tema profumato. E secondo, perché volevo testare se andasse, se ci fosse qualche problema di lag, qualche problema di connessione, ecco. Ma io mi sono appassionato da poco, ok. Ok, ti spiego perché. Perché avevo pensato, speriamo che non ci sia altri content creator in live, avevo pensato a un piccolo format, che tra l'altro mi è stato suggerito da un fan, tra virgolette suggerito, perché diciamo che ci siamo trovati a metà, che potrebbe essere quello di fare delle sorte, una sorta di consulenza, tra virgolette, o percorso olfattivo, però o nelle live o nei video. Quindi, un ragazzo, probabilmente su Instagram, perché su Instagram è molto più veloce a livello di messaggistiche e tutto, mi dirà un profumo che cerca, una famiglia olfattiva che cerca in quel profumo, un budget che ha per quel profumo, eccetera, eccetera, e io cercherò di trovarglielo. Magari insieme, magari in chiamata in live, così la chat può dire la sua, magari mettendoci un po', e poi si trova il profumo che fa per lui, per lo spettatore, o per, come si dice, per il follower. Come ti sembra, Adriano, questa idea? Aspettate che sto scrivendo YouTube, perfetto, su Instagram, cioè, scusatemi, su Telegram. Ok, come ti sembra, Adriano, questa bella idea? Mi gusta. Eh, ci sta, eh, ci sta, ci sta, ci sta. Tu, Adriano, prossimo acquisto, ce l'hai già in mente qualcosa da comprare, o ancora no? O ti devi, o preferisci andare in profumeria senza avere delle idee e farti trasportare da colui che vende, o da coloro che vendono? Cosa preferisci fare, cosa preferisci fare? Comunque, ragazzi, se siete entrati ora, voglio proprio sapere che profumo indossate quest'oggi. Fatemelo sapere. Io quest'oggi cosa ho indossato? Quest'oggi, ah, ho indossato Ambar, non so se si pronuncia proprio così. Ambar, o Ambar, di Tola. Un bel ambrato, un bel ambrato. Dolcino, non troppo, perché in realtà non è così tanto forte come prestazioni, quindi non è troppo invadente. Quindi, non male, non male. E ce ne sono mille che vorrei prendere, ok, 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 ok. Allora facciamo così, proviamo a fare questo gioco. Proviamo a fare questo gioco. Così magari aggiungi qualcosa alla wishlist, dato che è già piccola. È già scarsa. Ah, un'altra cosa, ragazzi. Mettete mi piace a questa live, ragazzi. Perché già è mezzanotte, meno dieci. Già non ho avvisato nessuno che c'era questa live. Almeno, almeno, se mettete i piace, qualcuno la vede. Almeno. Dai, scherzo. Allora, facciamo così. Voi mi scrivete, ragazzi. Come ad esempio Adriano o Cyborg. Buonasera, caro. Tutto bene, tutto bene. Tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Oggi staremo in pochi Cyborg, che stavo dicendo prima. Non che di solito siamo tantissimi. Però staremo intimi, ma fidelizzati, molto uniti. Questa sera indosso Castagna di Tutto Tondo. Brand che vende anche Matteo di 50 ml. Sì, 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 sì. So che Tutto Tondo ha 50 ml. Tra l'altro è un brand... Non male, eh. Non male. Aspettate, ok. Non male. Poi costa un poco, ci sta. Quello in particolare non lo conosco. Avevo sentito lo spritz, che era così particolare. Un po' giocoso, un po' giocoso. Però è interessante. No, vi stavo dicendo. Voi mi scrivete. Una sensazione che ricercate in un profumo. Anzi, nel vostro prossimo profumo. O una famiglia olfattiva. O un accostamento di note che vi piace. Una cosa che ricercate. Un budget. Così almeno mi so un attimo indirizzare. E io cercherò... E io cercherò di trovare il profumo che fa per voi. Facciamo questo piccolo esperimento. Volevo... Cioè, nel senso... Vorrei provare a farlo anche come video o come live. Ovviamente non stasera. Deve essere abbastanza, come si dice, organizzato. Vorrei provare l'Igno di Geroboam. Ho sentito Gozzo e me ne sono innamorato. Sì, 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 sì. Gozzo è un bel profumo. A me piace. Proprio da poco ho risposto a un commento su uno short di Megamare che ho pubblicato. In cui mi dicevano che ha stancato. E io ho risposto che, secondo me... Cioè, ci sta come risposta. Perché può essere che stanca. I profumi così un po' troppo venduti. Un po' troppo... Che anche le persone esterne lo comprano tanto perché va, eccetera. Possono stancare, effettivamente. Un esempio è Gozzo, Megamare, Black Afgano, Baccarat Rouge, eccetera, eccetera. Però gli ho scritto, ed è ciò che penso, che, secondo me... Io non smetterò mai di comprare questi profumi se mi piacciono. Megamare lo ho, Black Afgano lo ho. Vorrei acquistare anche Gozzo, perché no. Aventus ce l'ho. La cosa che, però, secondo me... Cioè, la differenza, secondo me, per non farselo... Per non stancarsi di quei profumi, è utilizzarlo nei momenti giusti. Perché, se uno acquista Megamare, acquista Gozzo, Aventus, eccetera, e lo mette sempre, tanto perché vuole usare quel profumo, perché va senza che abbia una... Si sia informato, senza che sia andata a ricercare una storia, qualcosa di particolare. Ma così, boom, boom, boom. Ho visto che uno parla di Megamare, l'ho comprato, indosso solo quello perché si sente forte, eccetera. Allora li stanca. Allora li stanca. Se invece io Megamare, o Black Afgano, o Gozzo, o Aventus, ma l'utilizzo in quella determinata occasione, perché, secondo me, in quella situazione ci sta quel profumo, allora li cambia. Io Megamare, ad esempio, lo dico anche nella recensione che faccio su YouTube, lo utilizzo, pensate un po', di sera, d'estate. Magari sono stato un po' influenzato dal marketing, eccetera, eccetera, non lo so, ma io mi metto due, tre, massimo quattro spruzzi, cosa che non faccio per gli altri profumi, perché io sono del team 15 spruzzi, con eccezione, appunto, e l'eccezione, ad esempio, è Megamare. Tre, massimo quattro spruzzi, e di sera d'estate, sì. E poi non tutte le sere, ovviamente, quando, secondo me, c'è la situazione giusta. A Aventus uguale, io lo trovo non troppo elegante come magari un Original Vetiver, però comunque non il primo profumo che capita, ok? E secondo me, nelle giornate in cui ci sta bene, lo indosso. E così non mi stanca mai, e sono consapevole di indossare quel profumo, ok? Comunque, sì, sono d'accordo, ma per me, che sono un novizio, è giusto, secondo me, sentire anche bestseller. Sì, sì, no, assolutamente. Io, a Megamare, preferisco Black Sea di Pazzaglia. Eh, purtroppo io, oggi ho risposto a una, a una, ehm, storia Instagram, cioè ho fatto un sondaggio Instagram, ehm, su Black Sea, che mi dicevano che indossavano Black Sea. Io, purtroppo, non lo so, non mi, non mi fa impazzire, non mi fa impazzire. Megamare mi piace parecchio, non è il mio preferito degli Orto Parisi, c'è la mia classifica, ma, mi piace, perché tra l'altro ce l'ho ancora spruzzato qua da qualche parte, la mogliata dovrebbe essere questa. No, dovrebbe essere, no, l'ho buttata, vabbè. Ah, eccola. Eccola qua, ce l'ho ancora qua. Perché a Megamare, su di me, ehm, tira fuori quella sensazione, un po' più, cioè, piuttosto che salata, un po' più, ehm, non dico verdina, però un po' più aromatica, un po' più, ehm, aniciata, ehm, sì, un po' sporchina, però mai troppo, troppo salata, ecco. E a me, infatti, i marini non mi fanno impazzire proprio quando tirano fuori quell'aspetto salato, ok? Un altro esempio, ehm, Erolfa, di Creed, in quel caso l'aspetto salato si sente di più, ma è talmente raffinato, è talmente elegante quel profumo, che addirittura, secondo me, è la mia top 5, dei Creed preferiti, nonostante io non ami i marini, ehm, ok, a te Adriano, a voi piacciono i marini, ragazzi? Che io purtroppo ho questo, questo problema, però, pensandoci bene, ad esempio, acqua di Gio, a me piace tantissimo acqua di Gio, che è un marino, sì, è molto sfumato, c'è molto di altro, però è comunque un marino, acqua di Gio, se non sbaglio, eh, se non sbaglio, non lo uso da tantissimo, non lo sento da tantissimo, eh, però a me piace molto acqua di Gio, ad esempio, non lo so, perché forse questi salati, questi marini, eh, della profumeria di Ninchia, sono appunto un po' troppo salati, un po' troppo, non lo so, non lo so, non mi fanno impazzire, un altro è, Bar, si chiama, quello di The Spirit of Dubai, ehm, anche lì, è un po' più salato rispetto a Megamare, però non lo so, lì c'è qualcosa che, che mi attira proprio, cioè mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, no no, buonissimo anche Megamare, l'ho acquistato, ma Black Sea, eh, mi dice qualcosa in più, ci sta, ci sta, sono gusti, tra l'altro, Adriano, dato che tu mi hai detto che vuoi sentire l'igno di Geroboam, e che ti piace moltissimo Gozzo, ora ti vado a prendere il mio preferito di Geroboam, il mio preferito del brand Geroboam, non ci ho ancora fatto la recensione qua su Instagram, è, siete pronti? uno è, uno è, che è il, che è il profumo quello bianco, te lo consiglio, te lo straconsiglio Adriano, questo qua secondo me, è il migliore della collezione Geroboam, o a meno, è quello che mi piace di più, guardate qua questa, proprio è una cosa che odio, e è quello che mi è piaciuto di più, perché? perché secondo me è un bellissimo profumo, lo dico sempre, per me è un profumo, proprio giocoso, che mi, che mi, che mi, non lo so, mi mette un po' felicità, mi mette felicità questo profumo qua, bellissimo, poi la boccetta è devastante, guardate che bella, molto molto carina, bella proporzionata, con questo tappino oro, con questo scritto in oro, in bianco, cioè su bianco, è un extra de parfum, le prestazioni ci sono, se me lo chiedete, e che cos'è? Sono dei fiori bianchi, insieme a di lang y lang, molto cremosi, molto addolciti, non troppo dolci, anzi, non troppo, scusate, sporchi, anzi, perché sapete, i fiori bianchi, già il suomino, così molte volte, tendono un po' a sporcarsi, tendono un po', come materia prima, ad essere leggermente sporchina, invece questo è molto addolcito, segue un po' la linea, e è molto bello, mi piace, mi piace invece. Tra l'altro, Adriano, dato che, dato che appunto, hai detto che hai la wishlist piena, eccetera, eccetera, hanno fatto i 100 ml di questi, quindi se ti piace Gozo, vabbè, Gozo c'era già il 100 ml, però adesso hanno fatto i 100 ml di tutti, di tutti questi, di tutti questi, interrompo, dicendo, ragazzi, mettete un mi piacevo nella live, mettete un bel mi piacevo nella live, mettete un bel mi piacevo nella live, dai, 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 no dai, grazie mille, se lo fate, comunque, se vi piace la live, ovviamente dovete farlo, va bene, chiudiamolo, allora, come tu ben sai, ognuno ha i suoi gusti, soprattutto per quanto riguarda i profumi, assolutamente, assolutamente, ma come tutto, come tutto, io infatti, cioè, i gusti non si toccano, i gusti non si toccano, si può, si può, diciamo, non essere d'accordo su altro, sempre parlando di profumi intendo, però, sui gusti ovviamente, sono gusti, poi, ok, Luca Colonnelli, buonasera, buonasera, Origino è strabuono, Origino, non mi ricordo, l'ho sentito con te, forse a Dexans, l'andrò a sentire sicuramente, vai, 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 fidati di me, fidati di me, poi magari non è il tuo genere, però, diciamo che, in realtà, non è neanche il mio genere, anche se appunto non ho un genere, però, cioè, nella mia collezione, un profumo così mi serviva, capito, molto giocoso, molto divertente, molto felice come profumo, lo descrivo sempre così, Cristian, buon sabato a tutti, buon sabato anche a te, Cristian, dato che è mezzanotte e due minuti, siamo qui su RDS Next, ben arrivati, bentornati, a tutti coloro che stanno ascoltando, questa radio, no, scusate, comunque, ciao Cristian, ciao, 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 ah, voglio sapere, dato che sono qui, Luca Coronelli cosa indossa, e Cristian anche cosa indossa, domanda di rito, ovviamente, domanda di rito, io come ho già detto prima, ho indossato, ambar, o ambar, non so come si pronunci, di Tola, bel profumo, bel profumo, non male, non male, un po', un po' forse, troppo dolcino, però non troppo, invadente, perché appunto, non è così tanto forte, non è così tanto presente, ecco, anche se l'ho spruzzato a campioncino, magari spruzzato un po' poco, anche se ne ho vaporizzato abbastanza, quindi, non lo so, non lo so, non lo so, quindi sì, uno e, vado a metterlo a posto, vado a metterlo a posto, vi volevo? vabbè, l'avete già visto, già spoilerato, vi volevo far vedere due profumi, anzi tre, uno adesso lo dovrò andare a riprendere, perché me lo sono dimenticato, tre profumi che forse non vi avevo mai fatto vedere, qua sul canale YouTube, uno sicuramente no, perché me l'hanno gentilmente regalato ad Exsans, anzi due, me ne hanno regalati ad Exsans, vado a prendere anche l'altro, così siamo a posto, e uno invece, perché è arrivato da poco in collezione, eccoci qua, allora, allora, prossimi acquisti in wishlist tuoi, che ti compri di bello ad aprile, io ho appena messo acqua di Parma Colonia, la classica, bello, bello, ci sta, stamattina Black Pepper di Com de Garçon, Black Pepper a me piace un botto, molto molto bello, molto molto bello, secondo me, Black Pepper, mi piace, dovrei prenderlo un, anche se ce l'ho, Obscurus di Profumo di Firenze, di Profumi di Firenze, che sarebbe un incenso abbastanza portabile, però, no sì, in realtà ce l'ho già, ho detto, dovrei prendere un incenso da portare, cioè portabile, effettivamente, Obscurus di Profumo di Firenze, è molto, di Profumi di Firenze, è molto portabile, quindi, no, non mi serve, però non l'ho mai usato, cioè, vabbè, comunque, bene, ci siamo, ci siamo, il primo, cosa ne pensi delle novità di Boys? Allora, Adriano, mi sembra che l'ho già detto, no, forse no, nel video di Xans non l'ho detto, vabbè, lo ridiciamo, allora, le tre nuove uscite, tra l'altro io ce le ho tutte, in formato 18 ml, me l'hanno gentilmente, scusatemi, me l'hanno gentilmente date ad Xans, Lorenzo, il ragazzo di Boys che saluto, Sandalvia e Scorza Forza, belle referenze, mi piacciono, non sono male, non sono male, non sono male, e Sandalvia appunto ha questo sandalo con salvia, quindi questa nota aromatica abbastanza fresca, abbastanza semplice ecco, semplice, molto fresca, indossabilissima, interessante, bello, non è male, Scorza Forza uguale, un mandarino molto succoso, molto agrumato, si ammorbidisce un po' sul fondo, un po' dolcino sul fondo, però comunque è un mandarino, è anche lui, molto portabile, semplice, ci sta. L'ultima, l'altra release invece, che se non mi sbaglio si chiama, Gioco all'alba, mi pare, molto ma molto interessante, difficile, perché è difficile a mio parere, perché è un profumo tosto, cioè anche da indossare non è semplicissimo, anzi, secondo me potrebbe non piacere a parecchi, perché è difficile come profumo, però come uscita, molto artistica, molto originale, e avevano un'idea in testa, avevano un'ispirazione in testa, e secondo me l'hanno rispettata pieno, note di whisky, tabacco, parecchio acidulo, parecchio spinto, sotto tutti i punti di vista, interessante, molto molto interessante, quindi penso questo, Gioco all'alba è il più interessante dei tre, però forse gli altri due, sono quelli che indosserei di più, comunque adesso ti rispondo Luca, sui miei prossimi acquisti, oltremare mi ha un po' deluso, ma oltremare, io l'ho sentito molto tempo fa, e in realtà mi ricordo che, non mi aveva, non mi aveva, vabbè, non era male, non era male, non c'ero rimasto così male, anche perché non mi, solitamente non mi creo aspettative, chissà che, ecco, quindi, anche lì, profumo non troppo complesso, non troppo articolato, non troppo artistico, però interessante, bel profumo, ci sta, però Black Pepper non è così incensato, è un paciuli, pepatissimo, morbido, sì è vero, diciamo che più di incenso, è speziato, sì effettivamente hai ragione Luca, hai ragione, però vabbè, secondo me c'è quel tocco di incenso, comunque di, di parte, eh, c'è, ecco, però sì è vero, è molto più, speziato, pepato, effettivamente sì, sì sì, il paciuli io, ma, ci sento altre note in Black Pepper, però ci sto, Cyborg, ho scoperto con un bosco sospeso di step aboard, di amare i profumi verdi, che stanno di clorofilla, liquida, qualcosa su queste vibes, magari un po' più particolare, ce l'ho Cyborg, ho due profumi per te, due profumi, uno sicuramente ti piacerà, se, se mi descrivi queste sensazioni, allora il primo, che è quello forse un po' meno con le tue caratteristiche, è French Lover, di Frederic Malle, che è proprio un verde, proprio verde, ok, proprio verde, erba tagliata, erba, ehm, fresca, umida, bagnata, va bene, forse bagnata l'ho già detto, quindi, French Lover, di Frederic Malle, il secondo, che è quello, che secondo me ti piacerà tantissimo, che ha proprio note di clorofilla, note verdi, note, eh, di menta, anche in apertura, che gli danno, ener, è una sensazione energizzante, fortissima, eh, in apertura, ispirato alle palme di Los Angeles, eccetera, eccetera, vatti a vedere l'ispirazione, è You or Someone Like You, di Età Libre d'Orange, te lo ripeto, You or Someone Like You, di Età Libre d'Orange, scritto così, non so se conosci il brand, comunque, eh, così, faccio lo spelling, comunque, quello, secondo me, se mi descrivi queste cose, quello ti piacerà di sicuro, di sicuro, portabilissimo, anche, non è dolce, però ha quella sorta di dolcezza, quella sorta di cremosità, che si fa apprezzare, che lo rende portabile, molto bello, io l'ho indossato, ero a Roma, forse, eh, ero a Roma, eh, di giorno, e, bello, mi ha accompagnato, poi spinge, eh, è interessante, Cristian, Arabian Stonka, il mio signature, da tre mesi circa, spero di stancarmi, il più tardi possibile, eh, Cristian, diciamo che, non so da quanto tu sei appassionato, Arabian Stonka, in realtà, eh, sì, è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, non so se c'eri, di Megamare, God, eccetera, anche lì, Arabian Stonka, personalmente, non mi fa impazzire, perché è molto, ma molto, ma molto dolce, mi piace molto di più, Arabian Stonka, che appunto toglie la parte di tonka, quindi toglie la parte, troppo dolce, toglie la parte, eh, un po' vanigliata, di fava tonka, che gli dà un po' di polverosità, e un po' di dolcezza, e rimane invece la parte un po' più strong, un po' più coiata, quindi Arabian Stonka, mi piace molto di più, però, è il discorso di prima, non usarlo tutti i giorni, non usarlo per qualsiasi situazione, Arabian Stonka è un profumo, che spinge, usalo, non so, se devi andare a far serata da qualche parte, se ti devi far sentire all'aperto qualche giorno, questo è il mio consiglio, eh, ovviamente, se no, se vai a scuola, in ufficio, non so quanti anni tu abbia, poi ti picchia, non se vai con Arabian Stonka, capito, però, vabbè, ci sta, eh, Riccardo San Giovanni, buonasera, buonasera a te Riccardo, benvenuto, scusate il ritardo, di cosa si parla? Di un po' di tutto Riccardo, se hai qualche domanda, eh, risponderti, vedo che siamo un po', quindi, grazie di essere qui ragazzi, non me lo aspettavo, non me lo aspettavo, a quest'ora, e senza organizzare niente, comunque, grazie mille, eh, ok, scusatemi, bene, allora, io vorrei provare qualcosa con note alcoliche, eh Adriano, ce ne sono molte, c'è il rum, c'è il cognac, c'è il whisky, io, se mi parli di note alcoliche, ovviamente, ti dico Barahonda, di Naso Matto, che è forse il mio busi preferito, in assoluto, c'è la mia recensione qua su YouTube, quindi dopo la live, se vuoi andarti a vedere la recensione specifica, puoi, che è un whisky, eh, torbato, cioè, un whisky, con delle note legnosi importanti, eh, come se questo whisky fosse stato invecchiato, nelle botti di, di, di legno, nella piramide, mi ricordo sempre che c'è la rosa, anche se io la rosa, personalmente, non ce la sento molto, invece, ci sento questo profumo molto morbido, molto avvolgente, dolce, perché è dolce, e anche, abbastanza, potente, però, molto interessante, molto molto interessante, ti dirò di più Adriano, se non lo sai, è fatto dal, cioè, è fatto con alcol alimentare, quel profumo, si dice, quindi molti hanno provato a spruzzarselo in bocca, non è incredibile, da, come sapore, io non l'ho mai provato, te lo sconsiglio, però, si può. Triton, o Triton, buonasera, ciao, che ne pensi di brand di profumi arabi, come Lattaf, eccetera, allora, Triton, o Triton, eh, purtroppo, non sono troppo d'accordo, nel senso che, non mi piacciono, non ne parlo, non ne so neanche molto, nel senso che, non li vado a ricercare, non li vado a studiare più di tanto, per me c'è altro, cioè, io sono nella filosofia che, piuttosto che prenderti un profumo a 30 euro, uguale a un altro, solo perché, per forma di più, solo perché costa molto meno, solo perché, eccetera, eccetera, aspetti uno, due, tre, quattro, anche sei mesi, e ti compri magari, il profumo originale, che vuoi, fatto sicuramente meglio, se invece mi dici, voglio un budget basso, perché a me non mi interessa molto i profumi, non dico 30, ma 70, massimo 100 euro, un profumo, ma neanche, perché Fragonard e Molinard, sui 40 e 70 euro si trovano, ci sono altri profumi, molto più qualitativi, molto più artistici, quindi non sono d'accordo, molto, Triton o Triton, ecco, tu invece, cosa ne pensi, cosa ne pensi, dato che mi hai fatto questa domanda, allora, Adriano, i dolcioni sono quelli che non comprerei mai, allora, io anch'io dicevo così, nel senso che i dolcioni, non mi fanno molto impazzire, non mi fanno molto impazzire, ma ho scoperto, nell'ultimo periodo, che dipende, dipende molto, perché non amo i dolcioni, ma in realtà è generale questa frase, perché non amo i fruttatoni, non amo i vanigliati potenti, però, se sono dei dolcioni particolari, vedi Sadonaso, vedi Unwe, anche abbastanza dolcione, vedi Tabak Nomad di Ubigan, vedi Tabacco Plus di Alex, ci sono dei casi che mi piacciono, mi piacciono anche molto, anche parecchio, quindi dipende, anch'io ero di questa filosofia, però ho scoperto che dipende, ecco, Cyborg, grande, sì, conosco il brand, ma non li profumo, grazie mille per i consigli, con quello di Talebred Orange, mi ha incuriosito un sacco, lo proverò di sicuro, grazie, Cyborg, fidati di me, se tu mi hai detto che ti piace un quel tipo di profumo, profumi, la descrizione è perfetta, cioè quello che ti ho consigliato, Luca, io ho appena comprato Africa Leather, a breve prendo Cacal's Tec, e vorrei aggiungere un primaverile estivo, tra Selmarin, o Selmarin, Salvia Plus, Pacific Rock Moss, o un bel Neroli, sì, sono delle belle, dei bei pensieri, Luca, non so perché, allora, io tra quelli che mi hai citato, ti consiglio assolutamente, o Salvia Plus, o un bel Neroli, o Neroli, io voglio comprarmi per l'estate quello di Creed, Sauvage Neroli, o Neroli Sauvage, una roba del genere, o forse non era Sauvage, non mi ricordo, vabbè, comunque, quello di Creed, il Neroli di Creed, mi, no, forse non era Sauvage, vabbè, mi piaceva molto, oppure c'è anche quello di, se vuoi farti sentire un po' di più, c'è quello di Matier Premier, che non è male affatto, comunque io ti consiglio questi, o Salvia Plus, ovviamente per i miei gusti personali, o un bel Neroli, o Neroli, non lo so, vabbè, aspettate, adesso volevo farvi vedere in realtà i profumi, però vabbè, perfetto, ok, scusatemi, perfetto, perfetto, ci siamo, allora, e per quello, ah, ok, ci vado, Christian, ci vado in università, ancora, mi devo nominare, ti aggiornerò comunque a riguardo, ecco, vedi Christian, fidati di me, sei ancora in tempo, sei ancora in tempo Christian, fidati, fermati, fermati, abbandona, Arabian Stonka, per l'università, prendi qualcosa di un po' più tranquillo, e per l'università, ti prendi qualcosa di talcato, qualcosa di muschiatino, qualcosa di un po' più elegante, dai, 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 ci pensiamo, ci pensiamo, Adriano, e per quello che sono molto in difficoltà, a decidere, ah, ok, 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 sì, per i dolcioni, ok, ok, riccardo, allora, faccio una domanda, hai mai sentito qualcosa del brand Mona di Oreo? ho ordinato un sample di Wood Osmantus, che sembrerebbe essere interessante, allora, no, non ho mai sentito niente di Mona di Oreo, so che è un bel brand, ne parla spesso il mio amico Nicolo Besozz, Nicolo Besozz, e, vabbè, io chiamolo le persone per, con nomi di Instagram, vabbè, comunque, Mona di Oreo, fammi vedere il, il pack, no, non ho mai sentito niente, non ho mai sentito niente, e so che è un bellissimo brand, quindi, approfondisci, nel senso, fammi sapere, vorrei sentire anch'io qualcosa, non, non ho mai sentito niente, mi dispiace, Riccardo, mi dispiace, sì, l'ho visto il tuo video, perfetto, Adriano, grandissimo, Tritone, o Tritone, io penso che ovviamente sia brutto copiare un profumo, però, però alcuni cloni sono addirittura più performanti, esempio dei cloni di alcuni Creed, quindi, lì diventa anche un discorso diverso a risparmiare, comunque poi fanno anche profumi non cloni, molto interessanti, allora, il problema qual è Tritone o Tritone? Il problema è proprio questo, quello che tu hai scritto nel primo messaggio, secondo me, che è quello che in realtà dico sempre alla gente che mi scrive nei direct, nei messaggi, dovete, cioè dovete, non è che sono un maestro, però, secondo me, soprattutto se siete degli appassionati, questo io mi rivolgo sempre ad appassionati, perché se tu, a te non ti interessa molto dei profumi, ok, non lo so, prendi un profumo per farti vedere, per farti sentire, per rimorchiare, per farti riconoscere, e quindi ci sta che lo vuoi performante, che duri 40 ore, che sia buono, che piaccia a tutti, che sia sexy, eccetera, ok, e qui non c'è niente da dire, ma se sei un appassionato, se sei uno che va a ricercare il profumo particolare, il profumo con una storia dietro, il profumo, oppure sei semplicemente appassionato di profumi che ti piacciono tanti profumi, ecco, a queste persone dico, secondo me, basare il costo, o comunque basare, l'apprezzare o no un profumo dalla sua durata e dalla sua scia, è la cosa più sbagliata da fare, secondo me, ti spiego meglio, no, in realtà non ti spiego meglio questo, perché secondo me, la durata non fa la qualità, la durata non fa la bontà di un profumo, poi sono d'accordo con te, che se un profumo mi fa davvero, e parlo anche per esperienza personale, 15, 20, 30 minuti, ma anche un'ora, lì mi arrabbia un po', ok, sia che costa 30, sia che costa 40, sia che costa 200, 300, 400, ok, lì mi arrabbio, perché dico, è impossibile, cioè 15 minuti, mezz'ora, dopo un'ora, ci sono dei profumi che non senti più, poi capisco degli agrumati che vanno via, che sono molto volatili, quindi ci sta, delle colonie, però, magari dei legnosi, dei vanigliati, che dopo un'ora non li senti più, allora lì mi arrabbio anch'io, ok, però, però, se il profumo, voi ditemi voi cosa ne pensate, se il profumo ti fa quelle tre ore e mezza, quattro, su pelle, poi magari ti rimane molto intimo, molto pacato, poi magari il profumo dura sei, sette ore, ma devi andare a ricercarlo, come spesso succede, però se, cioè, se tre ore e mezza, quattro, le fa, secondo me, basta, secondo me, il profumo, fa il suo, e poi ti dico una cosa, ci sono anche dei profumi che performano bene, Orto Paris, Naso Matto, ne sono un esempio, e sono i miei due brand preferiti, ok, però, è quello che dicevo prima, dipende dal contesto, lo dico sempre, se tu devi andare all'università, devi andare in un posto chiuso, devi andare, non lo so, non devi essere troppo aggressivo, ok, anche con il profumo, e tu hai solo profumi bombe, eh, magari può dar fastidio addirittura a qualcuno, capito? Quindi, secondo me, bisogna un po' dosare gli acquisti, nel senso che, se sei un appassionato, dovresti avere in collezione, sì la bomba, una, due, tre, quattro profumi bombe, eccetera, eccetera, anche dodici, ok, però, secondo me, devi avere anche dei profumi un po' più eleganti, un po' più tranquilli, un po' più, ehm, pacati, anche perché, se tu usi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dei profumi, bomba, dopo un po', vai fuori di testa, cioè dopo un mese, un anno, secondo me ti fa male la testa, per quanto alcol respiri, capito cosa intendo? Quindi, lì c'è un discorso molto lungo da fare, triton o triton, quindi, secondo me, quando dici, sono addirittura più performanti, come per dire, cavolo, performanti più e costanti meno, ecco, secondo me, invece, non è questo il ragionamento giusto da fare, però, ovviamente, sono, questo è il mio pensiero, questo è il mio pensiero, ci sta che tu lo pensi, invece, quando dicono, non fanno profumi cloni, ma altri, ma, usano altri DNA, cioè, creano altri DNA, diciamo che, se un brand però mi si presenta con, magari, a 10 profumi in collezione, 4, 5 sono cloni, e gli altri sono, 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 originali, mi cade anche un po' il brand, capito? Però, ovviamente, sono sempre pensieri, io vi dico la mia. Riccardo, visto che poco fa è stato orminato Fragonard, e visto che ci stiamo avvicinando alla stagione calda, consiglio il Neroli, che costa niente, 30 euro 100 ml da farsi a doccia, vedi? Vedi, infatti, è quello che dicevo prima, Fragonard si, 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 aggira sui 30, 40, 50, poi magari ci sono delle collezioni anche un po' più premium, in base alle, alle note che utilizza. non ho, non ho acqua, questa roba brutta, vabbè, comunque sì, Fragonard, ottima qualità delle materie prime, sui 30, 40 euro ti porti a casa un Fragonard, e lo ripeto, per chi appunto non lo sa, eh, eh, perché costano così poco, perché non hanno il costo dei trasporti, perché loro si fanno direttamente da loro, da sé, le materie prime, quindi ad esempio la lavanda, la tuberosa, altre note, non mi ricordo quali di preciso, comunque molte note se le fanno loro, e quindi non hanno il costo dei trasporti, non hanno il costo delle materie, e quindi, sì, ci sono brand Fragonard, Molinard, soprattutto, che sono low cost, tra virgolette, e molto, e molto, ma scusate, ma perché, è molto, qualitativi, ma scusate, ma, è per quello che sono molto in difficoltà, poi ha scritto, ah, vero, vero, scusate, vabbè, vabbè, perché qualcuno ritira i messaggi, scusate, vabbè, avrete sbagliato, vabbè, scusatemi, scusatemi, no, penso che non vi abbiano bannato, Adriano e Riccardo, che avete ritirato dei messaggi, l'avete ritirato voi, giusto? Non vi ha cancellato il messaggio YouTube, corretto? Vabbè, scrivetemelo nel caso. Adriano, no, ma se nella piramide alfattia c'è qualche nota speziata o legnosa, che spezza un po', li gradisco, ma i gourmand dolci dolci, non mi fanno impazzire, ci sta, ci sta, è un, è un parere, nel senso che, sì, in realtà, neanche io in collezione ho nessun gourmand, proprio, sì, vabbè, il cioccolato a bocca nera, e pardon, che hanno, che sono, che hanno la nota di principale, di cacao, scusatemi, di cioccolato, però è un cioccolato fondente, cioè è un cioccolato molto particolare, molto acidulo, poco dolce, poco dolce, quindi sì, in realtà, dei gourmand c'è gli o per quello che si intende con gourmand, però non sono i classici gourmand, ecco. potenza non vuol dire per forza qualità, ci sono profumi che non, che sono particolarmente performanti, che sono meravigliosi, ok, esatto, sono d'accordo con te Lorenzo, ok, perfetto, perfetto, Luca, comunque non so se te l'ho detto, l'anno ad aprile vado a Grasse, poi ti racconterò com'è, ovviamente raccontami, io vado a Vienna, Riccardo, qual è Neroli di Fragonard? Gli ho sentiti tutti, i Neroli ne fanno tipo 5-6, Fragonard fa 5-6 Neroli, madonna, Cyborg, sono d'accordo, personalmente preferisco avere addosso un profumo che si fa le sue 3-4 ore, che mi stupisce e ha un odore che mi piace molto, piuttosto che avere una bomba che sa di chimico, no, adesso, allora, io appunto, i miei due brand preferiti, adesso non c'ho con Triton o Triton, ho semplicemente dato la mia, ovviamente, non prendertela, stavo parlando, cioè, stavo solo rispondendo al tuo messaggio, comunque, cioè, ho usato il tuo messaggio per aprire questo argomento, i miei due brand preferiti sono Nasmat e Orto Parisi, ok? Ma io, non è che sono i miei due brand preferiti perché sono i più forti della nicchia, ok? Sono i miei preferiti per il messaggio che c'è dietro, per la bontà che mi danno, cioè, la bontà olfattiva che mi piace, per l'originalità, per la critica che hanno di fondo, ok? Per questo sono i miei due brand preferiti, però, oltre a quello, utilizzo, cioè, gli altri miei brand che prediligo sono appunto Creed, Penaligos, e altre cose che si sentono poco, quindi, non sto denigrando i profumi bomba, perché secondo me, soprattutto in alcune occasioni, devono essere così, ok? In discoteca, all'aria aperta, quando esci in una serata, che sei all'aria aperta, e se tu ti metti un Creed all'aria aperta, non si sente niente, magari c'è il vento, magari fa freddo, non si sente niente, ok? Quindi, ci sta che tu usi qualcosa di più potente, non sto dicendo questo, ok? Riccardo, sì sì, Lorenzo tranquillo, avevo sbagliato a scrivere, ok, sì, anche io avevo sbagliato a scrivere, perfetto, perfetto, Fleur d'Oranger, d'Orangerra, e DT, ok, 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 ok ragazzi, voi continuate a scrivere delle domande, continuate a scrivere cosa ne pensate, eccetera, e io invece vi faccio vedere tre proposte, che non vi ho mai fatto vedere qua sul canale, forse questa sì, allora, la prima è questa, che è, Figment, di Amouage, non rispruzzerò, perché in realtà, non è un profumo incredibile, cioè in senso, non è un profumo, buonissimo, ma è un profumo, bellissimo, molto artistico, molto, scusate, molto difficile da portare, molto complesso, e secondo me questo, è proprio il profumo, di nicchia, perché questo è un odore, più che un profumo, l'ho acquistato da un ragazzo, purtroppo non ho la scatola, che, se vedete, cioè, è qua il liquido, quindi non so come abbia fatto a utilizzarne così tanto, vabbè, è molto, ci ho fatto la recensione su TikTok e Instagram, è molto terroso, molto sporco, molto, ma molto animalico, diciamo che, per indossarlo, eh, devono piacerti queste sensazioni sporche, queste sensazioni animaliche, ma soprattutto, eh, devono piacerti questo, questo genere di profumi, non penso che lo utilizzerò mai addosso, eh, penso che, eh, come ho già fatto, me lo spruzzo sulla mouillette, e me lo sento qualche volta, da solo, qua a casa, però non ho ancora avuto mai l'occasione, non ho mai avuto il coraggio, più che altro, di indossarlo, però, eh, sono contento di avercelo, è un pezzo d'arte, guardate che, che belle le bocciate di, di Amoage, quindi niente, provo a indossarlo un giorno, e vedere le reazioni della gente, no, no, penso che non lo farò, penso che non lo farò, penso che non lo farò mai, ci fai un video reaction, no, penso di no, penso di no, perché poi non so se se ne va via, non so se ne va via, quindi, pensa che non l'ho mai neanche provato su pelle, cioè non l'ho mai provato sulla mano, di solito io per testarli, mi faccio il bagno, cioè mi faccio il bagno, lo spruzzo, e poi lo uso anche uno spruzzo sulla mano, per, per, per sentirlo, e descrivervelo poi, questo non l'ho fatto, l'ho spruzzato solo su mouillette, infatti la mia recensione proviene dalla mouillette, purtroppo, comunque, va bene, questo era il primo, poi, che è stato un po' un azzardo, nel senso, ho fatto una cosa, quindi, vabbè, ho preso questo, comunque, altri due che mi sono stati, ovviamente, no, non ovviamente, che mi sono stati, gentilmente, regalati ad Exsans, quindi ringrazio, coloro che mi hanno, dati, il regalo, adesso vi dirò chi sono, il primo, il primo, è, che secondo me farà parlare molto, ovvero, suscepto, di spiritica, penso che si veda, eccolo qua, ok, e, questa è la boccetta, adesso, che è il brand di Nasodani, che è un altro, un altro youtuber, penso che ormai, cioè, penso che lo conosciate tutti, non penso che sia io, a dovervelo presentare, e, sono andato al suo stand, durante Exsans, e ci ha fatto sentire, insieme agli altri ragazzi, con cui ero, le sue referenze, i suoi profumi, che tra l'altro, ero curioso di sentire, e, questo è quello che mi ha colpito di più, e lui, me l'ha, me l'ha omaggiato, quindi, grazie mille, Nasodani, e, sono contento, anche perché secondo me, questo merita, questo profumo, è davvero interessante, in realtà, tutta la linea, non è male, sono interessanti, Atsman, ah, eh, sì, cioè, questo non lo so, questo lo stai dicendo te, comunque, non mi ricordo quello di Atsman, in realtà, eh, vai, vai a rivederlo, non lo so, comunque, eh, non, non sono male i suoi profumi, eh, ce n'è uno azzurro, che è questo, uno verde, e uno rosso, questo secondo me, è quello un po' più interessante, apertura, poi vabbè, ve ne parlerò meglio, eh, apertura un po' ghiacciata, eh, non troppo, non troppo, eh, difficile da portare come indosso, ed è carino, è un bel profumo, è un bel profumo, ve ne parlerò, ve ne parlerò assolutamente, quindi ringrazio ovviamente, eh, Nasodani per il regalo, bello, bello, mi piace anche la confezione, tutto va bene, l'altro profumo, l'altro, che tra l'altro l'ho indossato già un paio di volte, devo studiarmelo ancora meglio, eh, ma, ma ve ne parlerò, ve ne parlerò, è uguale, non lo so, questo lo stai dicendo, questo lo stai dicendo, comunque, eh, altro profumo invece, che mi è stato omaggiato, gentilissimamente, eh, Alexandre, che tra l'altro è un brand con cui, ho già, cioè il brand che mi l'ha dato, è un brand con cui ho già collaborato, e sto parlando, ovviamente, cioè non ovviamente, ma di, quelche fleur, jardin, o jardin secret, non so come si pronuncia, quelquess, quelche, penso, vabbè, voi che sapete, Luca Colonelli che va in Francia, dimmi come si legge, quelche, o quelche, quelquess, quelche, boh, fleur, jardin secret, penso che il resto si pronuncia così, questo, ah, chi è che mi chiedeva un verde? Ah, Cyborg, vabbè, non so se siete ancora in chat, comunque, bellissima presentazione, come sempre UbiGan, state attenti, perché se voi lo prendete da qua, il profumo da sotto cade, ok? Nel prossimo vengo ad Exxans con te, bravo, Adriano, bravo, bravissimo, ecco qua, ah, tra l'altro l'ho chiuso al contrario, vabbè, l'ho messo al contrario, in realtà sarebbe così, vabbè, bellissima presentazione, loro, loro sono incredibili, loro sono incredibili, sono strafelici di collaborare con loro, eh, brand storico, ed eccolo qua, allora, questo è girato al contrario, eh, è questo il davanti, ehm, questo brand, scusatemi, questa, questa collezione di UbiGan, è una collezione che in realtà, nessuno si caga, si può dire, eh, perché io prima di questo Exxans, non, non, non la conoscevo, cioè non sapevo dell'esistenza, cioè sì, ero entrato nella conoscenza di questa, eh, di questa collezione, ma in realtà, non, non ne sapevo molto, cioè non avevo mai sentito una referenza, perché nei punti vendita, dove vendono UbiGan, molte volte queste collezioni non ci sono, questa è la collezione dei, boh, non so come si chiama, chiedo scusa, e, sono tutti dei profumi vintage, comunque molto, molto retro, proprio, come date di creazioni, che sono stati poi, magari, riaggiornati, negli ultimi anni, sono stati riproposti, negli ultimi anni, il packaging, mi è stato detto, che è ancora quello, originale, tradizionale, di, del 1800, 1900, in base alla fragranza, questo in particolare, bello, 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 questo in particolare, è un verde, sì, con questi fiori, con questo bouquet fiorito, eh, fiori, bianchi, che gli danno leggermente, un po' di, eh, non dico, sì, che sono leggermente sporchini, con questi muschi bianchi sul fondo, eh, parecchio verde, come vi ho già detto, e, interessante, molto, molto interessante, non dico che è vintage come sensazione, ma, mh, nel senso che può richiamare qualcosa di, di vintage, sicuramente reso moderno, perché, mi sembra che l'abbia riformulato, mi sembra che l'abbia riproposto, sul mercato nel 2018, non vorrei sbagliarmi, Luca Maffei, quindi sicuramente è molto più, eh, moderno, come sensazione, però, eh, bello, bello il concetto, bella l'idea di riproporre qualcosa di, di datato, con una storia dietro, poi sapete che a me mi fanno impazzire queste robe, e, niente, molto, molto interessante, ovviamente le prestazioni non sono incredibili, non, non, non grida, eh, proprio come, anche per come nasce questo profumo, e, niente, bello, bello, bella, bel regalo, sono stato molto contento, e interessante, io in realtà, eh, prima di lui avrei chiesto un altro, di, di Ubi Gun, che è di, di un'altra collezione, eh, diversa da questa, e diversa anche da quell'altra, che tutti conosciamo, quella squadrata, però purtroppo non lo avevano, non lo avevano, che è l'Iris, l'Iris di Ubi Gun è tantissima roba, tantissima roba, davvero bello, e quindi niente, questi sono dei profumi, che volevo farvi vedere, perché non ve li avevo ancora proposti, qua su, YouTube, quindi, sono contento, sono contento, adesso, adesso, prima di rispondere io, voglio sapere, le vostre, wish list, che cosa, vorrete, o vorreste, comprare, come prossimo profumo, fatemi sapere, adesso vado a riportare, di là i profumi, cioè nel cassetto di profumi, voglio sapere, quali sono i vostri profumi, quali sono i prossimi profumi, che vorreste comprare, i profumi che state addocchiando, i profumi che state testando, per poi acquistarli, voglio saperlo, sono molto, ma molto, curioso, poi vi dico la mia, poi vi dico la mia wish list, anche se in realtà, come dico sempre, è infinita, ma pensate proprio, a quelli, vicini, a quelli, proprio, papabili, questo mese, il prossimo mese, tra un giorno, due giorni, ecco, 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 vi aspetto, vi aspetto, vado a mettere giù questi, e arrivo, eccoci qua, eccoci qua, siamo tornati, siamo tornati, benvenuti, ben ritornati, da radio, da RTL 125, ok, va bene, va bene, va bene, va bene, vi dico la mia, vi dico la mia, non so se Luca è ancora, è ancora in chat, perché era molto curioso, della mia, nella mia, wish list, andiamo, apriamo, 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 parfumo, apriamo, parfumo, andiamo, nella lista, dei desideri, ed eccoci qua, ovviamente, questi sono, diciamo, ok, diciamo che questi sono tutti, quindi, in realtà, adesso poi vi dirò, quali sono, eh, quelli più papabili, quelli più papabili, vediamo, sta laggando, vabbè, ora non lagga più, eh, giusto? ok, ora non lagga più, bene, allora, 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 partiamo dal fondo, ne sto tocchiando tanti, ma in questo momento, non prendo nulla, anche perché, ho appena preso Falcon Leather, di My Tier Premier, spettacolare, sono d'accordo Riccardo, i miei due preferiti, di My Tier Premier, penso allo stesso posto, quindi, prima posizione per entrambi, sono Radical Rose, che ce l'ho, l'ho acquistato, cioè, me l'hanno regalato, da poco, al mio compleanno, e, a pari merito, Falcon Leather, io sono amante dei cuoiati, e Falcon Leather, tanta roba, sono d'accordo con te Riccardo, molto, molto interessante, allora, Riccardo, facciamo così, anche se non ne prenderai, nessuno in questo momento, diciamo, quelli che, prenderai, o vorresti prendere, appena, prenderai nuovi profumi, io già te lo dissi, oltre a quelli che ho scritto sopra, ho in wishlist, Tambur Sacré, Rubini, Origine, Geroboam, Bois, perché mi taglia sempre, Bois Noir, Piguet, e Uniper Sling, ok, ci sta, beh dai Luca, i tuoi non sono troppi, nel senso, sono mirati, sono, sono dei bei pezzi, ci sta, sono, li apprezzo tutti, dai, anche se alcuni non li conosco, tipo, Bois Noir, e, 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 andiamo in ordine, partendo dal basso, Sartorial, vabbè, che mi manca, classicone, bellissimo, Nero Lion, se trovo il coraggio, Rinosauros, vabbè, quello di, 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 di Zoologist, adesso arriviamo anche a me da Zoologist, comunque Sartorial, va bene, classicone, devo comprarlo, va bene, Alfety Leather, che in realtà, c'è qui Alfety Leather, ma in realtà, dopo che ho testato, con ben due sample, e la, la, la mini size da 5 ml, di Alfety Classico, sto rivalutando, se questo, Alfety Leather, trasformarlo in Alfety Classico, comunque, uno dei due, va acquistato, vedete, i primi sono 4 penali, vabbè, poi abbiamo Legacy of Petra, che è una liquirizia, quindi abbiamo questo sentore di liquirizia, in questo caso, parecchio dolce, in questo caso, gourmand, non so se Adriano è ancora in chat, però è interessante, secondo me è molto interessante, liquirizioso, si può dire, non lo so, profuma la liquirizia, molto morbido, cremoso, molto, sì, sta proprio di rotella di liquirizia, bellissimo, 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 e poi abbiamo il grandissimo, inimitable William, non so perché me lo, no, cosa ho fatto? Ah, l'ho aggiunto alla, ma c'erano già i preferiti, ma allora, no, volevo cancellare la traduzione, perché sennò me li fai in italiano, eccolo qua, The inimitable William Penaligons, che anche questo è parecchio, parecchio interessante come, come profumo, molto, molto bello, mi piace molto, devo, devo comprarlo, prima o poi lo acquisterò, poi abbiamo Annone, grande classico, che devo ancora comprare, questi sono i profumi classici, che devo ancora comprare, che sono rimasto un po' indietro, capito? sono quegli acquisti che, quando non ho niente di nuovissimo, che voglio subito, acquisto uno di questi, poi come vi dicevo prima, abbiamo Falcon Leather, di Matera Premiera, come il nostro buon Riccardo, poi abbiamo Tony Yommi, Monkey Special di Xerjoff, che in realtà, se non sbaglio, se non sbaglio è andato fuori produzione, o no? Ho sbaglio, ho sbaglio, spero di sbagliarmi, novi di durata? Come novi di durata? Come novi di durata? Sapete che non mi ricordo quanto duri, cioè mi ricordo che era abbastanza tosto, però vabbè, dovrò, dovrò, cioè perché su pelle non l'avevo ancora provato, comunque Tony Yommi, Monkey Special, che poi non mi ricordo se è uguale al Tony Yommi, quello classico, comunque molto molto bello come profumo, mi piace. Maidan di The Spirit of Dubai, quando avrò il coraggio di comprare uno Spirit of Dubai, sicuramente Maidan, Maidan è il mio preferito in assoluto, è questo cuoiato parecchio morbido, parecchio portabile. Poi abbiamo Love Kills di Maschi Milano, che è una rosa metallica bellissima, Queer Velours, e questo potrebbe essere uno dei più bollenti, potrebbe essere uno dei più bollenti, che è un cuoiato con iris incredibile. Dolcino al punto giusto, di Naomi Goodsir, che è un brand stra artistico, stra originale, ve lo consiglio come brand, e questo profumo in particolare è interessantissimo. Poi Dom Rosa di Liquid Imaginaire, buono, peccato che costa abbastanza, in realtà no, in realtà non mi ricordo, costa 2,50 o 3,50, no, costa 3,50 mi sembra, costa abbastanza purtroppo. Poi Gozo, un altro profumo di quelli classici, che devo comprare, che sono rimasto indietro, andiamo un po' a quello che dite voi, allora ti dico, Wood Maracuja, Riccardo dice, Maison Crivelli, oppure DGAF di Born to Stand Out, che non conosco, magari è un, è un'abbreviazione di un, di un profumo, ma non lo conosco, cioè Born to Stand Out, lo, lo conosco come brand, e tra l'altro adesso hanno aperto lo store a Milano, non so se hai visto sul loro sito, sul loro Instagram, scusami, e bel brand, ma non lo so, non lo so, non lo so, le ultime Xans l'ho, l'ho deviato, diciamo così, non per qualcosa, perché non lo so, un po' troppo chimici, un po' troppo sintetici per me, vabbè, Wood Maracuja, bello, 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 occhio che magari potrebbe essere il nuovo annone, quindi stai attento, prendilo subito, prendilo subito, Adriano, io vorrei un profumo per la bella stagione, ma come ti ho detto, la mia lista è infinita, per questo ti ho chiesto cosa ne pensi, della novità di Beuys, sono indirizzato su, su, se drabois è intenso, ok, che non ho mai sentito, sì, la novità di, cioè la novità di Beuys ci sta, eh, Sandalbia, ma anche quella al mandarino, è scorza forza, entrambe vanno bene per quello che mi hai chiesto, quindi bella stagione, eh, abbastanza semplici, non troppo complessi da portare, il problema è che non costano poco, eh, non costano poco, Alfetti Classico, pauroso, uno dei miei prefe, sono d'accordo, anche Wanderwogel, 2787, è quello, no, scusami Riccardo, Wanderwogel è quello alla menta, se è quella alla menta, tanta roba, Adriano, ma comunque non saprei, sono molto indeciso, ci sta, Petra molto originale, liquidizia orientale, sì, sì, anche io lo voglio Annone, eh, Adriano, ci sta, ci sta, ci sta, Annone è un grande classico, quando appunto avrò finito questa play, questa, wishlist, Annone me lo porto a casa, poi abbiamo, vabbè, siamo arrivati qui, Gozu un altro, poi c'è questo di Mancera, o Mancera, Wild Piton, che in realtà è qui, scusate, dovrei sentirlo, mi ricordo che era interessante, era un, un polveroso, talcatino, sì, bello, 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 diciamo che anche questo, se non ho proprio niente nella wishlist da comprare, ma lo acquisterò, cioè se proprio finisco tutto lo acquisto, l'attesa, un cuoio polveroso anche questo, molto soffice, molto, eh, ovattato come sensazione devastante, sempre di Mask Milano, dolce acqua, che tra l'altro non è molto apprezzato, a me piace molto, fiori bianchi addolciti, della collezione delle donne, interessantissimo, Rush Antille, il mio preferito di Mask Milano, un tè verde col cuoio, che lo rende molto scuro, molto, con carattere, interessante, voi ovviamente ragazzi, commentate la wishlist, se vedete qualche chicca che vi interessa, qualche chicca che vi piace, ditemi cosa ne pensate, vabbè, ovviamente ho nuda, di naso matto, discontinato dal, dal, dal 2000, vabbè, che non, che non penso che acquisterò mai, e troverò mai, soprattutto, vabbè, se ne avete uno, datemelo, ve lo parlo, poi abbiamo Amber Chiso, che è un altro di quelli, molto bollenti, il problema è che adesso stiamo andando, nella, nella stagione fredda, quindi potrebbe essere, che non acquisto nessuno di quelli che vedete, e vado su qualcos'altro, capito, vabbè, Amber Chiso è devastante, Viking, di Creed, questo potrebbe andare bene, per la, per la stagione f, ehm, che sta arrivando, un po' più calda, quindi, sì, vetivero, un po' di mente in apertura, che lo rende, un po' fresco, classico Creed, molto, molto, ehm, elegantino, molto raffinato, bellissimo, ovviamente, come sempre, di Creed abbiamo anche Boa do Portugal, una bella lavanda, stra elegante, Green Irish Tweed, un prato verde, no, chi è che mi aveva detto, Cyborg me l'aveva chiesto, penso che, Cyborg lo conosca già, comunque, Green Irish Tweed è un'altra, è un altro che ti cito, Cyborg, non so se stai vedendo ancora la, comunque, eh, molto, molto bello, e Rolfa, che è quello che vi dicevo prima, e Rolfa in realtà, non è male, per la stagione che sta arrivando, mmm, 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 anche lui è bollente, anche lui è bollente, teniamolo d'occhio, poi abbiamo Iberian Leather, di, di Memo, che è un cuoiato, con una rosa, molto aciduro, e, anche questo spinge parecchio, eh, difficilino, come profumo, poi abbiamo Grand Soir, lui è sempre bollente, è proprio lì lì che mi chiama, perché Grand Soir è incredibile, con profumo, eh, profumo bellissimo, 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 che mi manca ancora, eh, ho preferito sempre altro a prender lui, ma non come gusto preferito, semplicemente è capitato, Crying of Evil, di Stefano Berlucà, il mio preferito della collezione, ho Mortal Skin, eh, che anche Mortal Skin è devastante, però devo prendere anche lui, che è un cuoiato con tuberosa, anche lui un po' addolcito, poi abbiamo De Profundis, questo è incredibile, ragazzi, non so chi lo, chi di voi lo conosce, che è un profumo di Serge Lutin, che, eh, è nella collezione, adesso l'hanno cambiato da questa boccetta, che era, fantastica, ma costa, tipo, 400 euro, 400 qualcosa, eh, quindi, vabbè, poi, vabbè, abbiamo di ora un parfum, che si trova, poco nelle profumerie, quando si trova, si trova, so per i 150 euro, allora, c'è, fanculo, cioè, nel senso, cioè, io devo andare da Sefra, da Douglas, a spendere 150 euro, 160 euro, per Dior Un Parfum, bellissimo profumo, è devastante, però dai, cioè, fammi un po' di sconto, cioè, vabbè, vabbè, comunque, bellissimo profumo, Danger Parfum Cologne, lui, in realtà, era un wishlist, lui, era un wishlist, bellissimo, è devastante come profumo, il problema è che, prima costava 250 euro, tipo, sono andato l'altra volta a vedere, è un 100 ml, e costa 300 ora, se non di più, è aumentato di, più di 50 euro il prezzo, vabbè, da un anno, eh, da, vabbè, poi, Luxor, che è il mio preferito, Xergiof, ma non va bene per, la, la stagione che sta arrivando, Bellamy, un altro che non va bene per la stagione che sta mando, Paramuro, un altro, Vetiver, di Lelabò, interessante, ma anche lui un po' troppo scuro, forse per la stagione, arriviamo a B, Ape, vabbè, arriviamo a B, che è molto interessante, di Zoologist, che è il mio preferito di Zoologist, un miele, cera da api, proprio realistico, leggermente sporchino, leggermente animalico sul fondo, ma è davvero incredibile, è incredibile quel profumo, poi ci sono un paio di, di Ubi Gun che ho sentito, nei Discovery Kit, che mi hanno, mi hanno interessato, e c'è uno nuovo di, di Filippo Sorcinelli, che è Notre Dame, notte di Natale, oltre a questi, oltre a questi, molto bollenti, ok, ok, molto bollenti ci sono, molto bollenti ci sono, Neroli, no, si chiama, Sauvage, Neroli, ah, Neroli Sauvage, ma allora vedete che avevo, vedete che avevo ragione, eccolo qui, questo è strabollente, ragazzi, questo è strabollente, aggiungiamolo subito, lista dei desideri, questo è strabollente, devastante questo profumo, questo è bollente perché, si avvicina la sua stagione, capito, comunque, Triton o Triton, che ne pensi di Code Profumo, quello marrone, discontinuato, sai che non l'ho mai sentito, anzi, anzi, sto scherzando, l'ho sentito, penso, una volta, l'ho sentito una volta, ma non me lo ricordo, non me lo ricordo assolutamente, l'ho sentito proprio, mi sembra anche addirittura, quando non ero ancora appassionato, del mondo della nicchia, dei profumi, l'ho sentito moltissimo tempo fa, purtroppo non me lo ricordo, Triton o Triton, mi dispiace, mi dispiace, purtroppo non lo conosco, Riccardo, si menta, anice, notte sabbiose, marine fresco, leggermente dolcino, come dice il buon Mirko, sembra la caramellina menta fredda, si, allora se quello è buono Riccardo, sono, sono d'accordo con te, si, si, comprano, comprano Riccardo, e mandamelo, spedicimelo, no, no, si, è un bel profumo, Virgin Island Water di Creed, mi gusta parecchio, Adriano, ho fatto la recensione, su Instagram, e TikTok, di Virgin Island Water, l'ho preso anch'io, e, devastante, quel profumo lì, è, è pazzesco, infatti quest'estate mi sa che me lo porterò, me lo porterò da usare di sera, qualche volta, ciao Ciro, buonasera Ciro, buonasera, 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 come stai? Stavamo parlando delle wishlist, dei prossimi acquisti Ciro, facci un po' sapere i tuoi, quali saranno i tuoi prossimi acquisti, che vedi caldi lì su, che proprio ti bollono le mani, che proprio vuoi spendere quei soldi, comunque lui, è uno dei miei, dei miei, eh, profumi bollenti, ok, è spettacolare, è spettacolare, ah Virgin Island, si sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo, vabbè io sono stra fan dei Creed, quindi vabbè, va bene, allora lui è bollentissimo, è bollentissimo, anche in realtà Green Irish Tweed, però, allora voi dovete sapere una cosa, mi metto un attimo in grande, voi dovete sapere una cosa, ok, penso sia messo bene, no? Sì, quando diciamo, in realtà non ho dei profumi, cioè, non è che quando si avvicina l'inverno, dico, voglio prendere dei profumi invernali, eccetera, ma quando si avvicina la primavera, calda e l'estate, lì dico, devo prendere dei profumi per l'estate, o per la primavera, non so perché mi succede, ma diciamo che dico, come l'anno scorso mi è già successo, dico, dico, mi serve il profumo per quest'estate, infatti l'anno scorso, i miei due profumi per l'estate, quindi per il mare, sono stati, High Grove Bouquet, di Penaligons, che è una mimosa, molto verdina, molto addolcita, comunque è una bella mimosa, e insieme di Boys 1920, che è un profumo fresco, leggermente marino, ma addolcito, sembra quasi una caramellina acquosa, molto tranquillo, cioè per niente aggressivo, ecco. Questi sono stati i miei due profumi, della vacanza, delle vacanze, dell'estate, e infatti quando andavo in spiaggia, me li vaporizzavo, o sulla, sulla parte sopra, o sulla maglia, o sulla polo, in base a quello che mettevo, per andare in spiaggia, da qualsiasi parte, e sul costume pure, vaporizzavo, vaporizzavo, infatti adesso sono quasi a metà, ecco. E quindi io mi ricorderò di quell'estate, grazie a questi due profumi, ok? E quindi ora, non perché mi mancano, ma voglio trovare dei profumi, per questa primavera calda, e per quest'estate. Uno di questi potrebbe essere Neroli Sauvage. Mi succede spesso questa cosa, nel senso che magari, vedete, la wishlist è molto elevata, è molto numerosa, ma quando arrivo a questo periodo dell'anno, mi si aggiungono improvvisamente, dei profumi, non troppo complessi, non troppo articolati, che voglio usare, che voglio seccare, durante l'estate. Non so, mi succede spesso, non so se anche a voi succede questa roba qua, fatemi sapere. Ganymede è comunque scritto, il buon Ciro. te lo approvo, te lo approvo, Ganymede. Quindi lui è molto molto caldo, ok, come, come, lui è molto caldo come profumo, sono onesto con voi. Poi, vediamo un attimo, questa è la lista di controllo, quindi sono i profumi che ho sentito male, o che mi avete consigliato, comunque che devo risentire per qualche motivo, o che devo sentire. Code Profumo sta di Coca-Cola e in Dry Down un po' di cioccolato fondente, più o meno. Ok, interessante, sì, so che in realtà piaceva quel profumo a diverse, a diverse persone, però non so perché l'hanno, l'hanno ritirato al mercato. Non lo so. Allora, ti volevo chiedere, dell'Essential Parfum, quello muschiato, ora non mi viene il nome, ti piace? Ne parla bene molto Marco, però andando in una profumeria non aveva il tester, per farmelo sentire. Allora, ti devo dire, gli Essential Parfum non sono dei bei profumi, quindi dove vai vai, vai sul sicuro, nel senso, niente da dire, costano poco, profumi abbastanza semplici, quindi non ti posso dire che non mi piace, perché il profumo è un buon profumo, in particolare quello non me lo ricordo benissimo, però sicuramente c'è, non è, c'è Bua Imperial, ce n'era uno alla rosa, no? Un fiorito che era interessante, mi piace molto il Vetiver, però tutti questi profumi sono, il fico anche, non era male, se c'era un fico, sono tutti in chiave molto semplice, quindi dove vai vai, intendo all'interno del brand, non sbagli, ecco, non c'è niente di troppo complesso, al massimo rimani un po' deluso, perché dici, sì, non mi fai a troppo impazzire, ma è impossibile che non ti piacciono, ecco, quindi ti dico, non mi ricordo precisamente quello, secondo me ce n'è di meglio, sempre dello stesso brand, e ce n'è di meglio anche di muschiati, volendo, che costano di più, però, sì, sono dei bei profumi, ecco, se non l'hai mai sentito, sentilo e poi acquistalo, però sicuramente, non ti farà dire wow, ma non ti farà neanche schifo, ecco, questo è il mio parere, comunque, vediamo un attimo, cos'è questa roba qua, ah, eh, sì, vabbè, vabbè, io sto ancora cercando lui, è Royal English Letter, vorrei sentirlo, vabbè, non riuscirò mai, l'ho ricombato a Imperial, non ho mai ricevuto così tanti complimenti, eh, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, io, io fortunatamente ho altri profumi, inimmaginabili, con cui ho ricevuto i complimenti, uno, 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 uno su tutti, è, original vetivera di Creed, vabbè, assurdo, comunque, eh, no, qua non c'è niente di interessante, ah, qua cosa vuoi impariare, questo potrei toglierlo, lo conosco ormai come le mie tasche, vabbè, e, no, qua non ho niente, cos'è che volevo acquistare, ragazzi, cos'è che volevo acquistare, fatemi sapere cosa volevo acquistare, dai, dai, dei profumi freschi, dei profumi freschi, agrumati, fioriti, ma molto freschi, dai, molto freschi, fatemi sapere, fatemi sapere, che non mi vengono in mente ora, non mi vengono proprio in mente, hai sentito, L di Costume National, no, non l'ho ancora sentito, non sono ancora andato da Mazzolari, da quando me l'hai scritto, ci ero purtroppo, fatemi sapere, fatemi sapere, dai, 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 eh, crebbe Apple Blossom, madonna, costa 450 euro, ah, dai, peccato, peccato, è bellissimo quel profumi, vabbè, no, comunque, Luca Colonnelli, non so se sei ancora in chat, ma, eh, il, il logo di Hatzman, ha anche la linea sopra, eh, comunque, comunque, vabbè, niente, l'ora di ti piace al 101%, un coiato top, eh, lo so, me l'hai già detto, cavolo, devo, devo recuperarmelo, devo recuperarmelo assolutamente, comunque, niente, eh, niente, niente, mi è passato di mente i perfumi che volevo, che volevo, intendo quelli freschi dell'ultimo minuto, capito, niente, mi è passato di mente, devo, devo rimettermi a cercarlo, a cercarli, Basilico Eiffelini fresco, è buono, sì, Basilico Eiffelini in realtà, sì, è fresco, cioè, nel senso, mi ricordo che non fosse un profumo scurissimo, però, eh, sì, 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 però ci sta d'estate, col caldo, Lu, ci sta di giorno, col caldo, sui vestiti, o anche di sera, che profumi porto quest'estate, adesso ragazzi, dieci minuti, ancora, poi stacchiamo la live, che io la volevo fare così tanto perché mi andava di fare una live, non mi aspettavo così tanto, così tanta carica da parte vostra, grazie mille, vi ringrazio sempre, però dieci minuti adesso stacchiamo la live, tra poco stacchiamo la live, e quindi, in realtà, voglio dire un attimo una cosa, voglio dire un attimo una cosa, che profumi mi porto quest'estate, Fugazzi, Thirsty, Thirsty di Fugazzi, ma tutti ne parlano, io non l'ho mai sentito, ma c'è speranza per un nuovo orto Parisi, eh Ciro, non lo sappiamo, non lo sappiamo, ti posso dire che, che non lo sappiamo, diciamo che nessuno lo sa, diciamo che nessuno lo sa, solo, solo Gualtierone, non lo sa, ma te lo assicuro a Ciro, che nessuno ancora sa niente, ecco, però io, vedete anche secondo me, io so che lui, aveva, stava facendo delle prove, con dei profumi, per fargli diventare il prossimo orto Parisi, e so che, recentemente, cioè no, vabbè, qualche mese fa, ha buttato via tutte queste prove, che aveva, che stava facendo, da mesi, e quindi adesso, ha riniziato da zero, questo vuol dire che ci farà aspettare, molto, cioè molto, parecchio tempo, ma questo vuol dire che, questa è un'altra differenza, tra lui, ed altri, non deve per forza far uscire il profumo, non deve per forza, sottostare a delle, a dei parametri, se non gli piace quello che sta uscendo, butta tutto, anche se è in ritardo, e aspettiamo, capito, questo è un altro, un altro importante avviso, vabbè, comunque, Luca, e i miei due, che saranno, i miei due, di che, saranno, Selmarin, più un Neroli, vabbè, i tuoi due, prossimi acquisti, sì sì, non so cosa significa che, vabbè, di che, vabbè, se è fiducioso, sì, assolutamente, assolutamente, però non so tra quanto, Neroli Oranger di Mattier, possibilmente, è bello, vatti a sentire anche quello di Creed, so che non dura niente, ma fidati che, è proprio quel, è proprio quel, eh, quel profumino, che proprio, ti piace vaporizzare, capito Luca, provalo, tu st'estate, devi mettere, interlude e terroni, sotto il sole, sì, divento, niente, posso dire, oh, vabbè, niente, scusate, eh, no, scusate, voglio farvi vedere un attima cosa, allora, siamo qua sulla pagina di Parfumo, che è un sito, che fa quello che fa Fragrantica anche, ok, qua ci sono le note, eccetera, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, e vediamo, Astral Monade, o Monade, che scrivi, che scrive, togli il galbano, questo è sorprendentemente piacevole, per circa 30 minuti, in cui c'è una freschezza acquatica fruttata, e mera di alta qualità, che è molto ben miscelata, considerando che il prezzo, lo colloca nella categoria dei profumi di lusso, e poi, come tutti i profumi contenenti galbano, il profumo inizia ad avere un odore rancido, e disgustoso, come l'odore del corpo, se invece usassero la mente, il profumo sarebbe ancora, no, il profumo manterrebbe la sua freschezza acquatica, quindi hanno bisogno di riformularla, attenzione, attenzione, Astral Monade, o Astral Monade, è lei, il naso, il naso, il creatore, l'origine di tutto, l'origine del brand Fugazzi, attenzione, è lei, è lei la creatrice, è lei il direttore creativo, è lei il naso, arriva, un lampo di genio, consiglia, consiglia, togliete il galbano, questa è la soluzione per svoltare, questa è la soluzione per svoltare, signor, non c'è scritto il naso, probabilmente è lei, signor naso, togli il galbano, e mettici la menta, facile, era facile, era facile, come hanno fatto a non pensarci prima, era molto facile, vabbè, c'è qualcosa che vorresti prendere della Bianchi? No, 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 se dovresti prendere qualcos'altro della Bianchi, Encounters, però, mi piace, mi piace moltissimo, The Black Knight, che ho comprato, è devastante quel profumo, cioè, mi piace proprio 10 su 10, è incredibile, però altri che mi piacciono così tanto, no, non ce ne sono, Encounters bello, ma da qui a comprarlo, non lo so, ci sono altri profumi che vorrei prendere prima di lui, ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere partecipare a questa conversazione profumata, un saluto Lollo, e un saluto a tutti, un saluto a Adriano, grazie mille, se vuoi rimanere in contatto con me, Adriano, e con noi, seguimi su Instagram, non so se tu già lo fai, perché su Instagram sono molto più attivo sulle storie, possiamo parlare, eccetera, ah, col commento mi ha spezzato, vabbè, così è, in realtà, vabbè, mi ha fatto spezzare, mi ha fatto spezzare, vabbè, il galbano, il galbano una volta rovina, è bello che c'è solo una recensione qua su, su parfumo di questo profumo, vabbè, ragazzi, grazie mille di essere stati qua con me, grazie mille di essere stati qua con me, non mi immaginavo assolutamente, una vostra risposta così grande, cioè così, così accoglienti, dopo tantissimo che non facevo una live su YouTube, improvvisata, senza organizzare niente, a mezzanotte meno dieci, grazie mille, sono contento, vi ricordo solo una cosa, domenica, domenica, aspettate, bravo, bravo Adriano, bravissimo, grazie, 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 domenica, aspettate un attimo prima di uscire, domenica, appuntamento, fissatevelo, scrivetevelo, appuntamento, notte Ciro, appuntamento, con me, Marco, a naso duro, e, vi preannuncio ragazzi, vi preannuncio, e ospiti, e ospiti, ma non gli ospiti quelli classici, eh, non, eh, sì, lui che ha fatto questo profumo, lui che ha fatto quest'altro profumo, lo intervistiamo, no, 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 qua si cazzeggia, qua, qua si fa, qua si parla di profumi, si cazzeggia un po', si scherza, si ride, ci si diverte, quindi avremo, lo dico, degli ospiti, o delle ospiti, così, mai apparse, su, su questi social, mai apparse, su questi social, quindi, domenica, mi raccomando, appuntamento, importantissimo da non perdere, probabilmente, se tutto va bene, dovremo fare la live, qua, su YouTube, ok, in teoria, dovremo fare la live, qua su YouTube, in pratica, non si sa, perché se la connessione, salta, per qualsiasi motivo, che non è colpa nostra, ci sposteremo su Instagram, quindi ragazzi, a domenica, ragazzi, a domenica, ore 22, state connesse, mi raccomando, io vi ringrazio, di essere stati qui, e ringrazio anche chi, è entrato solamente, per lasciare un mi piace, o solamente per un saluto, o solamente per guardare, e basta, qualche secondo della live, grazie mille Adriano, grazie mille Ciro, grazie mille Luca, grazie mille, a Triton, o Triton, grazie mille, a Riccardo, a tutti coloro, che sono entrati oggi in live, sempre alle 22, sì, sempre alle 22, comunque vi terrò aggiornati, su Instagram, ciao ragazzi, buonanotte, ci vediamo, in un prossimo video, o in una prossima live, ricordatevi, ricordatevi, profumatevi, sempre. grazie mille, Grazie.